Ti piacerebbe intervistarmi? Dio mi domandò. Beh, se ne hai il tempo, dissi io. Dio sorriso. Il mio tempo è l'eternità. Comunque, cosa vuoi sapere? Eh, non so, cosa ti sorprende dell'umanità? Pensate con ansia al futuro, dimenticando il presente. Cosicché non vivete né nel presente né nel futuro. Vivete la vita come se non doveste morire mai. E morite come se non aveste vissuto mai. Vi stancate presto di essere bambini. Avete fretta di crescere e poi vorreste tornare bambini. Perdete la salute per guadagnare i soldi. E poi usate i soldi per recuperare la salute. Le mani di Dio presero le mie e restammo in silenzio per un po'. Poi gli chiesi. Padre, che lezioni di vita desideri che i tuoi figli imparino? Dio sorrise e poi rispose. Imparino che non possono costringere nessuno ad amarli. Quello che possono fare è lasciarsi amare. Imparino che ciò che vale di più non è quello che hanno nella vita, ma che hanno la vita stessa. Imparino che non è bene paragonarsi agli altri. Imparino che una persona ricca non è quella che ha di più, ma è quella che si accontenta dell'essenziale. Imparino che bastano pochi secondi per aprire profonde ferite nelle persone che si amano. E ci vogliono molti anni per sanarle. Imparino a perdonare praticando il perdono. Imparino che ci sono persone che li amano profondamente, ma che non sanno come esprimere o mostrare i loro sentimenti. Imparino che due persone possono vedere la stessa cosa in due modi differenti. Imparino che non è sempre sufficiente essere perdonati dagli altri. Però sempre bisogna imparare a perdonare se stessi. E imparino soprattutto che io sono sempre qui. Sempre.